bentornati su spacciatore seriale e fatemi salutare non solo gli amici del canale ma anche gli amici di non solo punto tv con il quale questo video è in collaborazione tante le serie a novembre e allora direi di partire subito con una carrellata di alcune di queste si parte con si serie americana prima stagione distribuita dalla piattaforma in streaming apple plus genere fantascienza drammatico una serie tv con jason memora un virus ha quasi sterminato la razza umana e reso non vedenti i pochi sopravvissuti ora che ha perso il senso della vista l'umanità deve adattarsi e trovare nuovi modi di sopravvivere the morning show serie americana prima stagione distribuita sulla piattaforma streaming apple plus genere commedia drammatico una serie con jennifer aniston cosa succede quando le persone che hanno la tua fiducia e che ti informano su cosa accade nel mondo si scoprano essere dei disonesti la serie segue la discesa impicchiata di un notiziario televisivo dopo l'esplosione di uno scandalo e le sfide che dovrà affrontare per sopravvivere in un'era dove le news sono alla portata di tutti nel palmo della loro mano dickinson serie americana prima stagione distribuita dalla piattaforma streaming apple plus genere drammatico commedia una serie tv che lancia uno sguardo nella vita letteraria di emily dickinson for all mankind serie americana prima stagione distribuita dalla piattaforma streaming apple plus genere fantascienza drammatico una serie tv che si domanda cosa sarebbe accaduto se la corsa globale allo spazio non si fosse mai interrotta caterina la grande serie americana prima stagione in onda in prima serata su sky atlantic genere drammatico storico una serie tv con ellen mirren dramma biografico segue il regno di caterina la grande durante gli ultimi anni del suo impero tra scandali intrighi e la sua intensa relazione con gregory potemkin war of the world serie americana prima stagione trasmessa per la prima volta in italia su fox generi fantascienza drammatico una serie tv adattamento del celebre romanzo di george wells ambientato nel nostro presente trust me serie britannica seconda stagione distribuita dalla piattaforma streaming team vision genere drammatico medical thriller una serie tv medical drama sulle vicende di cat un'infermiera che ha perso il lavoro dopo aver lanciato delle accuse costretta a cambiare vita cat ruba l'identità di un'amica un medico per poter guadagnare da vivere per sé e sua figlia ma il passato continua a tormentarla american horror story serie americana non a stagione ogni giovedì sera su fox genere horror drammatico antologica una serie tv con tematiche horror si parte con una casa infestata da fantasmi passiamo alle disumani condizioni dei malati mentali rinchiusi negli istituti durante gli anni sessanta ai rapimenti alieni esperimenti genetici e perfino alle streghe di salen l'uomo nell'alto castello serie americana quarta stagione distribuita dalla piattaforma in streaming amazon prime video genere drammatico fantascienza thriller il dramma narra di un futuro alternativo in cui hitler e l'impero giapponese hanno sconfitto gli alleati nella seconda guerra mondiale diffondendo il nazismo nel mondo intero stati uniti compresi the crown serie americana terza stagione distribuita dalla piattaforma in streaming netflix genere storico drammatico la serie ricoprirà l'arco storico della regina elisabetta seconda a partire dal 1952 quando è stata investita del titolo e ha cominciato a lavorare al fianco del primo ministro wiston churchill il principe dei draghi serie americana terza stagione distribuita dalla piattaforma streaming netflix genere animazione fantastica serie animata dai toni fantasy racconta del conflitto tra elfi draghi e uomini dopo che gli umani uccidono il re dei draghi e il suo uovo la guerra è alle porte con draghi ed elfi silicon valley serie americana sesta ed ultima stagione distribuita da hbo in onda su sky atlanti genere commedia sitcom la serie racconta la vita di alcuni programmatori che lavorano in un incubatore gestito da early backman il quale fornisce loro i mezzi e un luogo di lavoro in cambio del 10 per cento dei loro progetti ed eccoci arrivati alla fine di questa carrellata di serie tv in uscita a novembre fatemi salutare ancora una volta gli amici del canale i miei amici del canale ai quali nuovi chiedo di iscriversi e di attivare la campanella per le notifiche video e fatemi salutare anche gli amici di non solo punto tv che vi consiglio di andare a vedere sui loro social instagram ma anche il sito io vi abbraccio tutti vi do appuntamento ai prossimi video e ci vediamo presto ciao ciao